I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni con precedenti per spaccio di stupefacenti. L'altro pomeriggio non si è fermato all'alta dei militari rendendosi protagonista ad una rocambolesca fuga tra le vie del centro del comune in provincia di Latina, durata circa due chilometri. Una volta vistosi braccato e senza via d'uscita, il 23enne ha abbandonato la propria auto tentando di dileguarsi a piedi. Nuovamente raggiunto dai carabinieri ha opposto contro di loro un'energica resistenza, procurando tra l'altro lesioni a uno dei militari. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato per esistenza e violenza pubblico ufficiale e sottoposto, di concerto con l'autorità giudiziaria, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del successivo giudizio.